Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Dante's Inferno, con il viaggio di Dante nell'inferno Oh cacchio, chi è questo qua senza testa? La cosa non promette niente di buono Chi diavolo è? Poi è enorme Oh cacchio, ecco, era meglio che non ce l'aveva la testa, perché ce n'ha ben tre Mamma mia che brutto che sei, anzi che brutti che siete Ma che cacchio è? Il cerbero Oh cacchio Forza, forza Che andiamo ad attaccare? Queste che sono? Queste cose rosse? Niente, andiamo ad attaccare le mani? Oh Ma guardate Ove udirai le disperate strida Scusatemi, ma come cacchio Vi attacco io Sinceramente Solo con le stelle qua Con le croce di Beatrice, perché Mi buttate fuori a un macello Se mi mandate fuori Oh, che cacchio Ma Ma se io premo R1, L1 Forza, 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 forza Vai, 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 vai Per capire se sto facendo bene E che cacchio Ed è stancato Forza R2, forse una già l'abbiamo presa Oh Grande Dante Triangolo Dov'è stato attento ai pulsanti Dov'è stato attento ai pulsanti Grande Una testa del Cerbero ci ha salutato Perfetto Quindi andiamo di Di croce di Beatrice Vai, 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 vai Oh Bene Rendi va Stiamo attenti ai pulsanti Perfetto Triangolo Mamma mia È rimasta solo una testa Quindi è perfetto la tattica Della croce di Beatrice Vai, vai, vai Ah, meno male che l'abbiamo potenziata Forza Ok Vieni qua, va Oh Ci stai mangiati Ma che c'è sta a masticà Giù Sinistra Destra Oh Che cacchio è successo Porca miseria Gli ha fatto esplodere la testa Spettacolo Hai trovato una nuova reliqua Apprendistato di Azarel Il grande vermo Ok Mi dispiace amico Cerbero Però Questo incontro Non era da fare Mamma mia Che giro Ma che è la lingua La gola Che spettacolo Comunque le ambientazioni sono fantastiche Oh Ma che cacchio è Sto coso qua Ma che cacchio Mi ha masticato Mamma mia Che schifo Da riusci assolutamente 30 pezzi di argento Ok Devo assolutamente Andare A recuperare Energie Ma è tutto pieno Di vermi qua Che cacchio Di girone Allora Andiamo giù Cacchio Che dobbiamo entrare proprio dentro Che schifo Guarda qua Ma che si combattono Contro i vermi Stanno tutti Contro tutti Vai giù Oh ancora tu Sto verme Forza Ok Vieni qua Ok Mamma mia Vieni Vieni Oh Forza Forza Verme Vieni qua Vieni qua Che ti taglio Perfetto Secondo verme Tagliato Ma quanti ce ne stanno Dei sti cacchio Di vermi Mamma mia Sono dei lombriconi Giganti Vai 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 Ok Ok Facciamo affettatino Di vermi Un misto Di carne Di vermi Oh ancora Ma quanti siete Forza Ok Oggi Spezzatino Di vermi Per pranzo Forza Ok Vieni qua Mettiamo giù Pure tutti Sti brutti Mostri Ma ne sono Lui Vieni qua Perfetto Ok Andiamo Ecco un'anima Che ovviamente L'assolviamo Vediamo chi è E ciacco Anonimo cittadino Di Firenze Che spese la propria vita Ingozzandosi Trascorre ora L'eternità Nelle profonde Fangose Del terzo cerchio Infernale Ok Siamo nel terzo Cerchio infernale Stamattina Non mi vengono Le parole Quindi Già ce ne siamo Sparati due Se non sbaglio Dovrebbero essere nove Ok Ok Perfetto Vai 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 Ok Ok Perfetto Perfetto Ok Così ci da un bel po' di anime Per la santità E vediamo se Riusciamo a potenziare Qualche altra cosa Ok Già siamo a 23 Ok 27 stavolta 8 e 10 Ok Ciacco Ha ricevuto La soluzione Ok Perfetto Ah Già si può risalvare Risalviamo Ok Ok Mamma mia Che è sto schifo Oh cacchio Che sa tutte Quelle bocche Che si aprono Io penso Che dovrà andare Su ste piattaforme Allora Vieni qua Vai Vai Pure gli occhi Che mi guardano Ma chi è Ma che cacchio Che parla Che mi vuole mangiare Mamma mia Mamma mia Che girone Infernale Veramente Questo So che quest'ombre Non poterò Un soddisfare In vita In morte Gli verrà negato Per l'eternità Va bene Virgilio Come vuoi te Là che cos'è Che è un portale Andiamo a vedere Ma come ci fanno arrivare Forza Ancora Ma ancora Sti vermi Maledetti Vermi Forza 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 Ok I poteri Ancora Non li vorrei Utilizzare Perché non vorrei Che spuntasse Qualche mostro Simpatico E poi Mi servono I poteri Magici Gli incantamenti Quindi Vorrei aspettare Forza Questo Lo voglio Assolvere Dove sta No Ancora no E qua va Assolvi Con i cerchi Vai 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 Con la croce Di Beatrice Perfetto Così ci diamo 100 energie Ok Vieni qua Poi c'è sta pure La barra Vabbè Però non mi va Tanto di Di mettermele a usare Questo Lo voglio Prendilo Assolvi Vai ancora Con i cerchi Guardate Poi non vuole Manco essere Assolto Chissà perché Ok Così riempiamo Tutta la barra Della santità Perché la croce Di Beatrice È veramente Ottimo Adesso Come ci abbiamo Sconfitto Tranquillamente Il cerbero Ok Vai 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 Perfetto Anche solo No Col cavolo Spuntate a raffica Proprio random Uscite Vai Prendilo Assolvi Giù E poi su Ok Al 300 Che mi pare So 4 No 2 3 4 5 Forse 6 O 7 Livelli So la vedo Andiamo un po' No ma c'ho tutto Andiamo qua Che cos'è Poi Ancora Sti vermi Mamma mia Che brutto Guardate Dante Come è rimasto A guardarlo Sono Orrendi Sti vermi Che mostri Scandali Sta veni Da vomitare Dante No Che cosa fai Chi ti ha fatto Prete Quindi questo E I vizi Di gola Ma Pensate Infatti Hai veramente creduto A quei venditori Di salvezza E le anime perdute Che abbiamo ucciso Dove sono? Anche loro Lottavano Per una causa Sacra Dove sono? Perché non le vedo Dannate all'inferno? Perché questo Non è il loro Inferno Ma il tuo Ahia Ma Sembrano reali Sì personaggi Conoscendo mio figlio Sarà morto Già da tempo Oh cavolo Oh No Guardate Oh Alla croce Oh Ecco chi è Chi l'ha infilzato No Maledetto Non ha fatto nulla Fermano Osserva il massacro E la rovina Della tua famiglia Della tua casa Del tuo Oh Guardate che cacchio Oh Mamma mia Popo a tradimento Come ci si sente Quando è il proprio turno Porco cane Oh ancora Non era mia sorella Era mia moglie Ma pensate Cos'altro puoi prendere È una sfida Cosa ancora Sta a scoprire Cosa E tanto Ti veniamo a prendere In due scappi Prima o poi Ci sarà l'incontro Contro di te Dove vai Ah Eccolo Ma chi è Sto cicciottone Ma guardate Ti avvolta Come gli balla Al seno Che schifo Forza Ok Che cacchio è Distrugge tutto Ma il cicciottone Così L'abbiamo sconfitto L'amico ciccio Ma che cavolo è qua Ma che è Gira tutto Al contrario di tutto Aspetta Nel lancio Posso andare Vero? Mamma mia Che giro di peppe Allora Dobbiamo andare A quella porta lì Allora Andiamo qua Poi qua Apriamo la leva Vediamo la leva Che fa Ok Questo qua Qua Andiamo qua Qua Giriamo la leva Che ha fatto la leva? Qua non si può andare? No Apri la leva Questa leva Questa leva Che faceva? Ah questa La fa solamente Girare No Questa Cioè li rimette Dove stava Ma Non si può scendere Qua? Aspettate Che giro ragazzi No ma io dovrei Sfugge qualcosa Eh Vedo che mi possa Arrampicare Allora Questa la prendiamo Ok Poi Andiamo qua Vai 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 Ok Che cacchia di giro Vai 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 Ok Trenta pezzi Però Ai fini pratici Questo non mi serve a niente Vero? E no Perché Praticamente Non è che mi fa fare qualcosa Con le porte Ma mi fai scendere Ma scusa Io vorrei scendere Dante Se mi fai scendere Mi fai una cortesia Vai Ok Scendi Dante Perché non scavalchi Tutta la pedana Ci dobbiamo fare Ok Ok Andiamo di qua Andiamo di qua E no Ma questa si rimette a posto Però per capire che cavolo fa quella porta Aspetta Ok Fai questa Fai questa 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 Come cacchio faccia Arriva quella là Ah Devo prendere quel cavolo Di coso che passa Aspettate Vieni qua Come lo faccio a prendere Quel coso lì No ma più che altro Mi faccio Andare a destra Che giro ragazzi Che giro Allora Questo Questo dove va Ma sempre Qua ritorniamo Ma è possibile Qualsiasi strada faccio Ma guarda che cavolo Voglio capire Come cavolo faccio Per andare In quell'altro punto Allora Oh qua ci si cammina Ah ecco il cacchio Sono morto Eh È in giro assurdo Ok dai Faccio qualche prova E ci vediamo Al prossimo video Con Dante's Inferno Grazie